ciao ciao dimmi pure vedere cos'è arrivato di nuovo certo maxi camicia camicia quel qua suo vestito camicia sulla trurro fucsia canotta questa canotta sul nero camicia sul nero e infine questa conma ma non c'è nient'altro bello questo bello bellissimo fantastica questa questa bella questa bellissima guarda tiri da parte passura in mattina proprio devo provare ecco qua sono 18 se vuoi possiamo anche fare il nero sono 18 mi serve qualcosa per una ragazzina ti spiego sai adesso come funziona notti social instagram le influencer adesso come si vestono ma e hanno la cintura così e la calzetta col fiocchetto dietro e il jeans stretto però deve essere corto però deve essere trovato qua e la giacchetta deve essere con le borche però non deve essere larga deve essere stretta però deve essere porta mi stai ascoltando questo questo prendo questo questo è un po più corto questo è un po più lungo però questo potrebbe abbinarlo con non mi ricordo cosa nell'armadio prendo questo no meglio questo meglio questo lo spacchetto laterale questo ha le tasche però rosa fa tendenza a me ho deciso mi prendo tutti e due e 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